Buonasera a tutti gli okiste e alle okiste, siamo arrivati alla parte finale, alla fine del torneo e praticamente dobbiamo un po' tirare le somme. Ovviamente il risultato non ci può soddisfare a pieno anche se eravamo consci delle difficoltà che avremmo avuto. La squadra ha avuto una crescita abbastanza costante nel gioco, anche oggi tutto sommato non è stata una brutta partita, abbiamo avuto delle occasioni. Il problema è sempre quello, sempre ingenuità e momenti un po' di buio che ci costringono poi a risultati che non sono realmente confacenti con quello che si vede in campo. Riceviamo complimenti, ovviamente non ci bastano perché l'obiettivo è quello di salire un po' di livello e cominciare a competere alla pari anche nei risultati con le squadre che abbiamo incontrato in questo europeo. Buonasera a tutti e a tutte, il proseguo dell'attività sarà tra poco tempo, adesso una piccola pausa anche per ricaricare un po' le batterie ma soprattutto per cercare di recuperare tutte quelle atlete infortunate, tante, in maniera tale da poter riprendere e far tesoro di questa esperienza che comunque è stata molto molto importante. Come ha detto Fabrizio abbiamo ricevuto anche tanti, a parte i complimenti, tanti inviti importanti per poter fare esperienza a un livello alto. Ci prepareremo per questa avventura della qualificazione al mondiale che è a ottobre e al più presto riprenderemo gli allenamenti. Sono sicuro che se abbiamo la possibilità di poterci allenare bene potremo fare la nostra figura come abbiamo sempre fatto.